la nostra galassia la via lattea il sole impiega 225 milioni di anni per girare attorno alla galassia l'era dei dinosauri è durata 180 milioni di anni quindi se la rotazione della galassia avvenisse in un'ora la terra avrebbe 20 ore di vita i dinosauri sarebbero vissuti 48 minuti e noi 48 secondi questa è una cometa è fatta di ghiaccio e roccia è larga 16 chilometri e punta verso la terra a grande velocità questa non è la terra che conosciamo oggi questa è la terra di 65 milioni di anni fa e noi siamo in sud america molto prima della comparsa dell'uomo quando i padroni indiscussi della terra erano i dinosauri e 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